Allora voglio impostare il conto della sfera, questa è la sfera omogenea, di raggio R maiuscolo, così siete in grado di farlo voi e lo porterete all'orale, non voglio farlo io completamente, ma almeno impostarlo abbastanza, che lo posso con onestà, chiedelo, cosa è successo al piede? La strategia del calco è quella di dividere la sfera in tanti dischi di raggi opportuni, in modo che i dischi impilati in modo appropriato seguano il contorno della sfera Allora pensate all'iesimo disco, questa è una sfera omogenea, quindi questo disco è un disco omogeneo e il disco omogeneo avrà un certo spessore delta xi Se io vi chiedo qual è il momento di inerzia di un disco, e il disco è fatto così, dove ha un certo raggio e se volete ha anche un certo spessore Qual è il momento di inerzia del disco, e immaginare che il disco sia pieno? Il momento di inerzia rispetto all'asse passata per il centro è un mezzo MR quadro, cioè il momento di inerzia frega niente della dimensione lungo l'asse Se gli interessa la dimensione dall'asse, pensateci un attimo Allora, il contributo, il momento di inerzia dell'iesimo disco è uguale a un mezzo La massa dell'iesimo disco per il suo raggio Allora, questo disco blu ha raggio Ri, quindi mettereste Ri quadro Ok? Prima cosa Poi uno comincia a ragionare e dice, va beh, Ri cos'è? Ri al quadrato è uguale a R al quadrato meno Xi al quadrato Dove l'X è la posizione del centro rispetto al centro del disco Quindi se volete potete pensare che al centro della sfera, scusate Al centro della sfera potete mettere, se volete, l'origine degli assi Xi Dovete capire e cogliere il senso della matematica Per esempio, se io chiamo questo l'equatore Vedete questo disco ha una certa latitudine Quindi, in un certo senso, la variabile Xi sta dicendo di quanto questo disco è su rispetto al piano dell'equatore Quindi il disco che è sull'equatore, questo disco qua, che raggio ha? R maiuscolo Invece, quel disco che è sollevato di Xi dall'equatore Non ha raggio R maiuscolo, ma ha raggio Ri maiuscolo E cos'è Ri? Cioè cos'è questo? Beh, questo è un triangolo rettangolo Questo è l'ipotenusa, che è il raggio R della sfera Questo cateto qui rappresenta di quanto è alzato questo disco rispetto all'equatore E quindi il raggio di questo disco è semplicemente R maiuscolo quadro meno Xi al quadrato Questo deve essere il primo spunto, la prima intuizione Quindi questo qui, subito la scrivete così Un mezzo, perché è un disco pieno La massa del diesimo disco, che dobbiamo ancora scriverlo Sta tutto in arrivo La luce intensa fa... Se avete lo standuto che non vuole venire... Guardate la luce intensa Quindi questo è Ri al quadrato, quindi è tutta questa roba qua Adesso dobbiamo pensare alla massa del diesimo disco La massa del diesimo disco è la massa di questa file qui Che è un disco con un certo spessore Quindi siccome il materiale di cui questa sfera è fatta E' una sfera omogenea Quindi avete la massa dell'iesima sfera E' uguale a Rho, la densità volumetrica Quindi questi sono 102 kg al metro cubo Moltiplicato per i metri cubi Cioè per il volume del disco Quindi questo è il volume dell'iesimo disco E cos'è il volume dell'iesimo disco? Quel disco lì, la scrivete ovviamente in Rho Quindi è 2 pi greco Ri Che è l'area, diciamo, della faccia del disco Per lo spessore E lo spessore cos'è? E' delta Xi Quindi questo è delta... Sto scrivendo questo non c'è, non fico Sì, questa è la sua comprensa L'area quindi è pi greco Ri al quadrato Questa è l'area della faccia del disco Per il suo spessore, d'accordo? Quindi questo è il volume del disco Questa è la densità volumetrica del materiale del disco Quindi ho un certo numero di chili al metro cubo Moltiplicato per metro quadrato per un altro metro Quindi questi sono il volume metro cubo Avrò chili La massa dell'iesimo disco D'accordo? E' il volume di quel disco Moltiplicato per metro Qual'è il volume del disco? E' l'area del disco moltiplicato il suo spessore L'area del disco è pi greco Ri al quadro E il suo spessore è delta Xi D'accordo? Quindi mettete i pezzi assieme I, la stima, è uguale alla sommatoria di tutti i contributi dei dischi E quindi abbiamo il contributo di l'iesimo disco Prendiamo i pezzi Abbiamo un mezzo La massa Che è Rho Questa roba qui, no? Questa è la massa Quindi è pi greco Ri al quadrato delta Xi Quindi questa è la massa Questa roba qua E' la massa Per la distanza al quadrato Che è Ri Ma Ri, Ri al quadrato lo stiamo scrivendo come R quadro Quindi questo è R quadro Meno Meno XI al quadrato D'accordo? Quindi questa qua Ri al quadrato Ci siamo? Ho fatto giusto? Quindi l'un mezzo perché è un disco pieno Massa e densità per volume Area, spessore E questa è la distanza dall'asse Che è Ri al quadrato D'accordo? Quindi E' giusto? Un momento di parla Mi sembra giusto? Mi sembra giusto? Quindi possiamo Ho fatto diversamente nell'altra classe Devo aver fatto un errore di là Nell'altro gruppo Perché non è la stessa forma che ho scritto di là Aciò che è stata un'altra classe Ricciare Un'altra e lascio a voi, come vedete questa è una sommatoria che condivide dei pezzi vedete che c'è un mezzo rho pi greco che esce fuori e dovete con molta pazienza fare questo quindi dovete svolgere questo per questo o meno questo per questo, fate con calma e cercate di tirare fuori la risposta e la risposta è 2 quinti m r quadro che strano, cosa ho fatto dall'altro gruppo? non ho voglia di fermare qualcuno e guardare i suoi appunti quindi cercate di fare il conto, impostate la sommatoria in modo che venga fuori un integrale guardate come gli estremi dell'integrale andranno, integrerete su x, no? x sarà la variabile su cui state integrando, quali saranno gli estremi dell'integrale? da meno r a r, cioè avrete l'estremi dell'integrale sarà un integrando, come gratta, dx da meno r a r questo è più r e questo qua giù la chiamare meno r se volete pensateci, guardatelo, se qualcuno si perde eventualmente il giovedì mi seccherà a farlo perchè non vorrei dedicare altro tempo a questo è un conto che credo che ognuno di voi dovrebbe essere in grado di fare per l'orale, va bene? invece voglio continuare a mettere carne su focus sulle cose che Babbè ha fatto nell'ora nella seconda ora di stamattina ho la sensazione di aver fatto un errore stamattina di là e devo cercare di capire cosa ho fatto vabbè andiamo avanti allora c'è un altro tipo di problema di dinamica che voglio discutere adesso e la scrivo e poi casomai faccio qualche commento adesso in attimo allora la situazione è questa, la situazione è questa immaginate un tavolo va bene lubrificato avete l'aria compressa, avete dei lubrificanti quindi non ci sarà l'interazione nel senso orizzontale del termine tra questo blocco e il tavolo è chiaro che c'è nella direzione verticale il tavolo impedisce al blocco di cadere quindi il fatto che nella direzione Y il corpo non stia accelerando nella direzione Y il corpo non stia accelerando io dico che la massa del corpo per l'accelerazione nella direzione Y, questa è la direzione X e questa direzione Y questo è zero, ho una forza nulla siccome c'è però questa è la forza risultante quindi la forza totale nella direzione Y del corpo deve essere zero perché io non vedo alcuna accelerazione ma la forza della direzione Y è fatta di due pezzi non vi pare c'è la forza peso e c'è la forza che il tavolo eserce sul corpo se il tavolo non ci fosse il corpo cadrebbe lungo la verticale quindi la forza totale a direzione Y è la sonda di due pezzi uno è la forza peso e l'altro se volete è la forza dovuta al tavolo ok? mi scrivo così, questa è dovuta alla terra dovuta alla terra, questa è la forza di reazione chiamiamola così del tavolo, dovuta al tavolo allora se chiamo questa la direzione Y magari la direzione positiva è piaccia verso il basso perché se il tavolo non si fosse cadrebbe così no? allora è evidente che questa so scriverla perché questa è uguale la forza del tavolo la scrivo col segno più perché la forza che qui dove sono i gessi gialli c'è una forza peso che è rivolta verso il basso ma il fatto che il corpo non accelera vuol dire che la forza che il tavolo eserce sul blocco dovrebbe essere uguale e contraria altrimenti avrei un'accelerazione diverso da zero l'unico modo per avere il tono zero nella direzione Y è che ci sia una forza che spinge verso l'alto che ha esattamente lo stesso modo e quindi uno cosa conclude da qua? questo è uguale a Mg più la forza del tavolo va bene ma siccome questo è zero allora conclude che la forza del tavolo deve essere uguale a meno Mg a me interessa la direzione X nella direzione X voglio che la forza dovuta al tavolo sia zero e il tavolo esercita una forza sul blocco che è uguale e contraria a forza peso mi sta bene a me interessa la direzione X nella direzione X voglio che la forza dovuta al tavolo sia zero cioè non voglio che ci sia attrito adesso al blocco io faccio qualcosa di interessante questo è il tavolo, questo è uno spigolo, un muro questo è il blocco che non c'è forza nella direzione orizzontale tra il blocco e il tavolo è lubrificato e al blocco attacco una molla allora la molla quando io vado in un ferramenta e compro una molla l'appoggiate sul tavolo la molla avrà una sua lunghezza chiamiamola lunghezza di riposo, lunghezza di fabbrica ma la molla in qualche modo è deformabile voi potete comprimerlo e potrete allungarlo quindi si fa una scoperta molto semplice se io attacco il corpo alla molla e la molla non è deformata cioè ha la sua lunghezza di fabbrica e l'attacco e tengo con la mano il blocco non sento uno sforzo muscolare particolare nel mio braccio tranne quello di tenere la mano in questa posizione infatti se lascio la presa senza comunicare una velocità al corpo cosa difficile a me perchè ho la mia mano che trema se io lascio la presa, cioè se il corpo la tengo fermo e lascio la presa quindi la faccio partire da fermo scopro che il corpo non si muove sta lì allora invece se io faccio una cosa del genere prendo il corpo e allungo la molla cioè l'ho saldato, c'è un gancio spostando il corpo allungo la molla quindi il corpo lo porto qui chiaramente la molla è allungata scopro che la mia mano i muscoli cominciano a produrre aceratico e il mio braccio trema sono un po' flaccido ormai una volta sapevo fare 60 fissioni adesso si o no faccio un fattore 10 in meno 6 la vostra età le facevo 60 ma completi fino a giù tenendo il corpo bello rigido e le facevo in circa un minuto cioè uno al secondo altri tempi cosa noto? che il mio braccio comincia a sentire a fare uno sforzo muscolare molto maggiore se lascio la presa se lascio la presa quel cazzo il corpo sta fermo? ok? viceversa se il corpo lo porto qui comprimendo la molla analogamente anche se lascio il corpo da fermo quel cazzo sta fermo? c'è una unica posizione dove quando lo lascio da fermo non si muove ed è quella che corrisponde alla molla non deformata se la molla è allungata o è compressa invece vedo che il corpo si metterà ad accelerare non sta fermo si metterà ad accelerare questa posizione dove non accelera perchè la posizione è dove l'ha piazzato l'ho piazzato lì con velocità 0 e la velocità rimane 0 il fatto che la velocità non cambi vuol dire che non sta accelerando e cosa ci dice Newton? nella direzione x ci dice che se vedo che l'accelerazione è 0 deduco che la forza è 0 viceversa se vedo che l'accelerazione non è 0 deduco che la forza non è 0 questo è quello che sta dicendo la legge di Newton quindi in questa posizione evidentemente non c'è alcuna forza sul corpo perchè non accelera invece sia qui che qui il corpo benché inizialmente la velocità è 0 la velocità ad un istante successivo non è più 0 ha accelerato perchè c'è una forza d'accordo? allora la forza per entrare nel vivo dalla matematica è un esercizio molto speciale che qui siete responsabili del corso io scriverò una forza che dipenderà da come la molla è deformata cioè se la molla non è deformata la forza sarà 0 se la molla è deformata la forza è diversa 0 io scrivo la seguente forza scriverò la legge Newton nella direzione x ma uguale la scrivo così voglio che la forza sia proporzionale voglio che il modulo della forza sia proporzionale alla distorsione della molla se io la molla la allungo ci sarà una forza se raddoppio l'allungamento la forza sarà raddoppiata se triplico l'allungamento la forza sarà triplicata compressione comprimo la molla ci sarà una forza se la comprimo il doppio la forza sarà doppia se la comprimo il triplo la forza è tripla non solo voglio che la forza sia nella direzione quindi chiamiamo questa la direzione x quindi chiamerò direzione positiva la molla allungata direzione negativa anzi, fatemi vedere una cosa che c'è prima di mettere il verso sull'asse x questa posizione, userò l'asse x ma non è la direzione positiva questa posizione che è molto speciale che è l'unica posizione dove il corpo non accelera evidentemente non c'è alcuna forza la chiamo l'origine chiamo questa posizione qua molto speciale x uguale a 0 quando la molla sarà compressa dirò che la posizione x è positiva quindi questa sarà il verso positivo quindi questo signore si trova in questo è 0, questo ha un valore di x maggiore di 0 questo ha una posizione che è negativa quindi quando il corpo è nella posizione 0 non c'è alcuna forza quando allungate la molla state mettendo il corpo in una posizione dove la x è positiva quando comprimete avrete una x negativa quindi il verso è questo questa è la convenzione con cui descriverò questo problema questa posizione dove non avviene niente si chiamerà la posizione di equilibrio ed è lì che metterò l'origine degli assi per me una x positiva corrisponde a una molla allungata una x negativa corrisponde a una molla compressa ok? adesso io voglio che quando il corpo lo tengo qui con la mano e lascio la presa vedo che la direzione della velocità è verso sinistra quando invece, questo è sperimentale, attaccate qua dove va il corpo? va di là o va di qua? va a sinistra quando invece comprimete la molla e mollate la presa va a destra quindi questi fatti, il fatto che voglio che il modulo sia proporzionale alla distorsione e voglio che se la distorsione è positiva, cioè lungo la molla la forza sia di là perché quando la mollo se la velocità è zero e poi mi trovo che la x diminuisce dal tempo ho una velocità negativa e quindi se la velocità è negativa vuol dire che l'accelerazione è di là è negativa, continuo a sputacchiare perché non ho bevuto abbastanza oggi se la x è positiva l'accelerazione è negativa cosa vuol dire che l'accelerazione è negativa? vuol dire che la forza è negativa perché la forza è nella stessa direzione dell'accelerazione quindi un allungamento, una x positiva mi dà una velocità nell'istante dopo per di là quindi l'accelerazione è negativa quindi la forza è per di là quindi se la x è positiva la forza è negativa se la x è negativa quando mollo la presa il corpo nell'istante successivo in questa posizione si troverà qui le posizioni stanno aumentando nel tempo quindi la velocità è di là l'accelerazione è di là perché era zero velocità poi trovate una velocità di là evidentemente l'accelerazione è positiva quindi la forza è positiva quindi una x negativa vi dà una forza positiva una x positiva vi dà una forza negativa quindi disegniamo delle frecce questa rappresenta la forza in questa direzione questa ha una forza in questa direzione se io raddoppio la posizione del corpo quindi se qui lo porto qui se io raddoppio la deformazione, la porto x doppia voglio che la freccia gialla che disegni qua sia il doppio di quello quindi se disegno in qualche modo la forza devo disegnare una freccia che è doppia d'accordo? il fatto quindi che il modulo della forza sia proporzionale alla deformazione della molla che è misurata da x la deformazione della molla si misura dalla coordinata del blocco no? e di quanto è? dov'è il blocco? è qua e quanta è la deformazione della molla? è x quindi la posizione del corpo vi misura la deformazione della molla quindi io voglio che la forza sia proporzionale a x e voglio che abbia il segno opposto a x quando x è positivo la forza deve essere negativa quando x è negativa la forza deve essere positiva quindi io la scrivo così la lesi di Newton la forza della molla la scrivo come meno kx il segno meno mi sta dicendo che quando questo è positivo la forza è negativa verso sinistra quando questo è negativo vuol dire cioè che la molla è compressa allora la forza è verso destra il fatto che il modulo della forza è proporzionale a x è quello che voglio discutere con voi le conseguenze di questa semplice quindi la legge di Newton è questa questa è la legge di Newton questa legge qui qualsiasi molla voi andate in una ferramenta e comprate una molla per piccole deformazioni la molla in effetti applica una forza che proporzionale la deformazione questa si chiama la legge di Hooke che era un pochettino più vecchio di Newton ma più o meno contemporanea quindi se la molla è lineare se la molla soddisfa la legge di Hooke allora l'equazione del moto è questa ok? l'equazione di Newton vogliamo trovare una soluzione dopo questa breve introduzione vogliamo trovare una soluzione vogliamo trovare una x di t cioè una funzione x di t che soddisfi questa equazione cos'è l'accelerazione? l'accelerazione è una derivata seconda quindi io uso la rotazione dei punti mx due punti uguale meno kx ricordo che x due punti è la derivata seconda di x rispetto al tempo ok? quindi io voglio trovare una x di t tale che quando lo mettete qui e lo mettete qui abbiate l'eguaglianza di nuovo capite subito che x non può essere un po' binomio e di nuovo vedete una cosa interessante che è la derivata state cercando facciamo la divisione per m? perchè no? facciamo quello che ho fatto stamattina mettiamo a sinistra tutto quello che dipende da x quindi questo diventa x due punti più k diviso m x uguale a 0 non c'è niente a destra che non dipende quindi c'è 0 quindi questa è un'equazione lineare vedete che è lineare perchè x e la derivata seconda di x appaiono alla prima potenza è un'equazione dove la derivata di ordine più elevato è la seconda quindi è un'equazione differenziale omogenea è lineare, omogenea ed è del secondo ordine cioè la derivata seconda pari invece quella di stamattina era un'equazione omogenea quando avevo fatto il cambiamento della variabile dove la derivata era di ordine 1 quindi è un'equazione lineare di ordine 1 questa è un'equazione lineare di ordine 2 perchè la derivata di ordine più elevato è la derivata seconda scritta così ho scritta così capite subito che non può essere un polinomio potrebbe essere un esponenziale? perchè cos'ha l'esponenziale? che la derivata della funzione è Lx è uguale Lx qual'è la derivata seconda di Lx? Lx qual'è la derivata decina di Lx? Lx quindi la derivata seconda è la funzione stessa moltiplicata per un'opportuna costante usiamo la tecnica stamattina quindi dove la scrivo? facciamo una prova una prova una funzione di prova sarà un'esponenziale di nuovo siamo in fisica quindi questo non ha senso scriverlo perchè T è un tempo quindi l'argomento, la funzione esponenziale deve essere adimensionale e la funzione esponenziale stessa è adimensionale quindi siamo obbligati obbligati a mettere qualcosa qui che abbia le dimensioni di un tempo alla meno 1 in modo che l'esponente sia adimensionale e siamo obbligati a mettere qualcosa qua davanti in modo che questo deve avere le dimensioni di una lunghezza quindi alfa le dimensioni di alfa è un tempo alla meno 1 e in questo esercizio la dimensione di a è una lunghezza perchè x è una lunghezza no? siamo obbligati a scrivere questa la funzione prova deve avere questa forma qua ma alfa e a che senso hanno? beh a è più facile da interpretare perchè a è il valore di x quando t uguale a 0 non vi pare? quando t uguale a 0 qua ho 0 e alla 0 vale 1 quindi x t uguale a 0 vale a quindi a cos'è? a è la posizione iniziale se volete possiamo anche scriverla x0 lasciamolo apri il momento l'importante è che voi già capiate che a è uguale al valore di x quando t uguale a 0 quindi magari potete cambiare la notazione e chiamarla x0 lasciamolo apri il momento quindi proviamo a usare questa equazione e sbatterla qua e sbatterla qua e a imporre l'eguaglianza e vedere se c'è un vincolo su cosa cazzo è alfa alfa è qualsiasi cosa allora qual è la derivata prima della funzione di prova? ovviamente questo è alfa ae alla alfa t qual è la derivata seconda? perchè ci serve calcolarlo perchè in questo possiamo calcolarlo a sinistra derivata seconda è uguale a alfa quadro perchè faccio la derivata un'altra volta scenderà all'alfa quindi imponiamo questo qui quindi abbiamo alfa quadro ae alla alfa t deve essere uguale a meno k diviso m per la funzione di prova che è ae alla alfa t questa è la condizione che vogliamo imporre questa è la condizione che la funzione di prova sia soluzione dovete avere l'eguaglianza in qualsiasi istanza del tempo questo deve essere vero per qualsiasi istanza del tempo per ogni t è evidente che l'eguaglianza qua non è dovuta alla a è evidente che l'eguaglianza non è dovuta a e alla alfa t se volete e alla alfa t è sempre diverso da zero e quindi potete dividere tutto per e alla alfa t cioè e alla alfa t è sempre diverso da zero quindi potete dividere a se volete una funzione triviale allora è evidente che a uguale a zero questo vi da la soluzione e uno si chiede ma questo è una soluzione? certo che lo è la funzione identicamente nulla che è zero per ogni istante del tempo è una soluzione dell'equazione di Newton non vi pare? perchè? state dicendo qual è la derivata prima di una funzione x è uguale a zero qual è la velocità cos'è questa funzione qua? questo corrisponde al corpo che è nella posizione x uguale a zero e non si sposta sta fermo quindi una soluzione di questo tipo che velocità ha? zero qual è l'accelerazione? zero zero è uguale a zero? certo quindi quella è la soluzione triviale corrisponde al corpo qui che non fa un cazzo sta fermo ok? ma quella è una soluzione noiosa non succede niente se volete che succeda qualcosa di fisicamente interessante dovete immaginare che a sia diverso da zero e quindi essendo diverso da zero potete dividere per a via via e vedete che il contenuto matematico dell'aver imposto che questa prova sia la soluzione è che α quadro deve essere uguale a meno km e qua i vostri occhi dovrebbero strabuzzare qua si apre un mondo completamente nuovo perché α non è un numero reale è un numero immaginario è un numero immaginario quindi α è uguale alla radice quadrata più o meno ne ho due no? cos'è i? credo avervelo già detto a suo tempo non mi ricordo più forse ho detto al precorso i per i matematici è la radice di meno uno alcuni ingegneri specialmente gli elettrici indicano la radice quadrata di meno uno con la lettera j e argomentano questo fatto perchè i per loro per gli elettrici è la corretta elettrica l'ho già detto come io rispondo? io ho detto qual cazzo i è la corrente elettrica perchè per me la corrente elettrica è quella i maiuscolo? infatti j per me è la densità di corrente come la mettiamo? io uso la notazione dei matematici i fisici usano la notazione dei matematici per qualche motivo gli ingegneri chiamano la radice quadrata meno uno j non ho mai capito perchè perchè non usano la notazione dei matematici? ah perchè per noi i è la corrente che cazzo la risposta è questa? perchè j è la densità di corrente è una risposta del cazzo però l'ingegnerino fa questo deve essere cancellato ok? sennò i colleghi i cosigneri si cazzo quindi io da umile fisico uso la notazione dei matematici non ho la pretesa di cambiare una notazione i matematici fanno il loro mestiere no? prendo da loro ok? quindi alfa questo alfa che appare qui non è un numero qualsiasi non è nemmeno un numero reale è un numero immaginario è un numero complesso con la parte reale nulla quindi se non sapete cosa sono i numeri complessi sentite una cacca perchè non sapete neanche descrivere una massa attaccata alla nulla allora la soluzione quindi è questa addirittura ci sono due tipi di soluzioni la soluzione è una cosa del genere per esempio lo posso scrivere così come a e alla i anzi silenzio questa combinazione qua radice quadrata di k diviso m siccome sono pigro e voglio risparmiare sul gesso voglio inventare un nuovo simbolo questo è uno dei simboli che dovete trattuare sui vostri corpi lo scrivo qua su chiamo la radice quadrata di k diviso m questa k qua non gli ho dato un nome questo è la legge di Hooke quindi la legge di Hooke di una molla ideale di una molla ideale di una molla che soddisfa la legge di Hooke questa k si chiama la costante elastica della molla qualsiasi molla reale se non la deformate troppo è ben descritta da questa equazione se la deformate troppo cosa succede a una molla se la deformate troppo? o la comprimete troppo? potreste rovinare il metallo e quindi quando mollate la presa la molla non torna alla sua lunghezza originaria perchè invece di essere elasticamente deformata l'avete deformata plasticamente e non è più quella di una volta quindi una molla reale è una cosa una molla ideale è un'altra però qualsiasi molla reale se non esagerate nel deformarlo se non la deformate permanentemente se non la deformate troppo se non la allugate troppo rimarrà la forza che riesce ad esercitare un corpo sarà proporzionale alla deformazione una molla ideale io sto discutendo una molla ideale quale sono le dimensioni di K? domande classiche che faccio a qualsiasi studente che sta lottando per la sopravvivenza è una forza diviso una lunghezza quindi cos'è una forza? una forza è una massa per un'accelerazione quindi è L per T alla meno 2 diviso una lunghezza quindi come vedete la K ha la dimensione di una massa diviso un tempo al quadrato ok? diviso un tempo al quadrato nel sistema internazionale siccome le forze sono misurate in newton e le lunghezze in metri le costante elastiche delle molle sono misurate in newton su metro newton al metro newton per metro newton diviso metro nel sistema internazionale che dimensioni ha questo? la dimensione di K è una massa diviso un tempo al quadrato quindi cos'è la dimensione di quella roba là? questa roba che appare qui questa alfa che dimensione ha? ha la dimensione di un lo sapevamo già no? tempo al meno 1 deve avere una dimensione di tempo al meno 1 quindi questa è la dimensione di un tempo al meno 1 e indicherò questo simbolo qua indicherò questa combinazione di parametri cioè l'esperimento l'esperimento è un oggetto materiale attaccato alla molla c'ho due parametri sperimentali la massa del corpo che metto qua cos'è la massa? dovete essere pronti a rispondere e la costante elastica della molla quella combinazione di parametri è così speciale che merita un simbolo tutto suo indica la lettera omega con penis e 0 è una ha le dimensioni di un tempo al meno 1 ha le dimensioni di una velocità angolare ha le dimensioni di una velocità angolare in questo contesto qual è un angolo? dove c'è un angolo qua? no non c'è un angolo e quindi in questo contesto questo omega viene chiamato pulsazione però c'è un angolo non si vede ma c'è quindi è anche corretto chiamare la pulsazione una specie di velocità angolare ma dove c'è l'angolo? non si vede ma c'è adesso tra un attimo ve lo dico quindi questa si chiama pulsazione il fatto che usi lo stesso simbolo della velocità angolare c'è un motivo adesso vediamo se qualcuno si ricorda quello che ho raccontato al precoso quindi la soluzione sembrerebbe essere questa fatemi scrivere, ci sono due soluzioni no? perchè questa è un'equazione quadratica non vi pare? questa è un'equazione quadratica magari voi siete abituati a vedere la scritta così trovare gli zeri quali sono gli zeri? cioè qual è il valore di alfa che mette a zero questa quadratica? eccolo qua, sono due uno è col segno più e uno è col segno meno ok? ragioniamo quello col segno positivo quindi la soluzione col segno positivo sembrerebbe essere questo a e alla i alfa t scusatemi e alla i omega zero t cioè ricordatevi omega zero è quella roba la radice quadrata e questo era alfa più era quello che stavo facendo voglio la soluzione positiva cioè con l'alfa con il segno positivo quindi questo è a alla e i omega zero t guardatela chi ha fatto i numeri complessi? in teoria tutti quanti di voi hanno seguito il precoso? cos'è questo signore qua? abbiamo appena imparato una cosa che per descrivere una massa attaccata alla molla abbiamo bisogno dei numeri complessi non solo alfa è un numero immaginario ma x è un numero complesso perchè questo è un numero complesso e sul piano dei numeri complessi dove sta? ecco la parte reale di x questa è la parte immaginaria di x questo è un numero complesso che al variare del tempo fa un moto circolare uniforme nel piano dei numeri complessi e il raggio di questo cerchio è a perchè e alla i omega zero t è un numero complesso qual'è la parte reale di questo? teorema di Eulero Eulero dovreste sapere questo questo signore qui è coseno di omega zero t più i seno di omega zero t quando t è uguale a zero dov'è quel numero complesso? è qui pensate all'argomento di questo coseno l'argomento di questo la chiamate teta di t cos'è teta di t? è appunto omega zero t quindi voi avete l'angolo cioè la fase l'angolo l'argomento del coseno e del seno sta crescendo linearmente nel tempo quindi quel numero complesso sta facendo un moto circolare uniforme in senso anti-orario quando ecco l'angolo ecco l'angolo è cresciuto l'angolo sta crescendo linearmente nel tempo la particella il punto matematico prima è qui sul piano complesso poi è qui poi è qui poi è qui perchè l'angolo sta crescendo linearmente nel tempo questa è la soluzione positiva cioè quando uso l'alfa positivo quando uso l'alfa negativa cosa succede? ho un numero complesso che va in senso orario quindi per descrivere una massa attaccata a una molla avete bisogno dei numeri complessi avete bisogno di capire il teorema di Orlero che è un numero complesso scritto in questo modo qui può essere pensata come la parte reale è un coseno e poi la parte immaginaria è seno di teta se qua c'è il seno più allora avete la parte immaginaria più i seno se qua c'è il seno meno avete coseno meno i seno e quindi vedete che omega 0 questa strana combinazione dei parametri sperimentali k diviso m è stata desi quadratta è chiaramente una velocità angolare è la derivata di come è l'angolo dove è l'angolo? nel piano dei numeri complessi di come è quell'angolo cambia del tempo voi vedete la massa attaccata a una molla e non vedete mica un moto circolare ma la matematica di un moto oscillatorio perchè questo è un oggetto che va avanti e indietro no? questa molla che va avanti e indietro voi la potete guardare nel mondo dei numeri chiamiamoli reali e non vedete nessun moto circolare oppure la potete guardare col cervello aperto questo è il moto di un matematico che dice questo è descrivibile come il moto di un punto nel piano dei numeri complessi e il moto che tipo di moto è? è un moto circolare uniforme quindi quell'angolo, la fase del numero complesso la fase del numero complesso lo riscrivo meglio questa è la fase del numero complesso lo riscrivo meglio quindi x più o meno t avete un valore a più o a meno perchè potrebbero... questa costante qua dov'era la costante? questa costante qui è una costante libera che corrisponde al fatto che voi fate partire la molla da dove volete invece il suo comportamento nel tempo per il teorema di Olero questa cosa qua può essere scritta come coseno di omega 0 t più o meno ovviamente la A è fuori chi seno di omega 0 t questa si chiama la fase e la fase sta cambiando linearmente nel tempo chiaro finora? adesso si dimostra cosa che non vi faccio magari in un altro momento ma vorrei andare avanti è un dettaglio prendetela come enunciato prendetela come enunciato per il momento per il momento la x la alfa è un numero immaginario e la x è un numero complesso eh? che è una parte reale e una parte immaginaria si dimostra che se io voglio che x sia un numero reale quindi questa notazione qua permettetemi di scrivere in questo modo devo trovare il modo di enunciarlo in maniera chiara siccome non voglio perdere tempo a dimostratelo devo almeno enunciarlo in maniera chiara allora la soluzione generale sarà una cosa del genere cioè con x che è l'elemento dei complessi sto scrivendo così la soluzione generale sarà una cosa del genere dove ho una voglio cambiare notazione non mi piace l'uso dell'acqua fatemi scrivere poi sistemiamo un po' è il motivo di stare zitti in più per stare zitti se non capite bene quello che sto facendo non vi pare? io sto dicendo abbiamo visto che alfa che aveva bisogno di soddisfare questa equazione qui alfa era e ce ne erano due uno di tipo più e uno di tipo meno che era più o meno i volte la radice quadrata di k diviso m che io sto scrivendo con quel signolo là più o meno i omega 0 quindi come vedete io ho due tipi di soluzioni ho la soluzione con la e col segno più i omega 0 t cioè e alfa t col segno più e ho un altro tipo di soluzione e alla meno i omega 0 t quando prendo l'altra soluzione la soluzione generale deve poter contenere entrambi i tipi di pezzi quelli che hanno l'alfa positivo e quelli che hanno l'alfa negativo e le costante moltiplicative c o quello che io ho chiamato qua a possono essere diverse quindi con questa notazione sto solo dicendo che questa è la soluzione generale questo è un pezzo che ha l'alfa positiva questo è il pezzo che ha l'alfa negativa questa costante c più e c meno uso il pezzo c più per semplicemente identificarla ma anche per dire che questi possono essere diversi tra di loro non hanno motivo di essere lo stesso ok? alfa col segno più è una delle possibilità ho anche l'alfa col segno meno e la soluzione generale è averle entrambi ma possono entrare con diversi costanti queste costanti che dimensioni hanno? alla dimensione x allora l'enunciato è che se voglio che x sia reale un numero reale allora la soluzione generale si scrive nel seguente modo discuteremo questo che sto per dire la dimostrazione che questo passa e questa ve la risparmio c'è negli appunti delle fotocopie dei miei appunti personali ma non è in programma non lo chiedo voi se volete vederlo c'è ma non ve lo chiedo vi chiedo però l'enunciato che questa è la soluzione generale però matematico che la soluzione generale è un numero complesso ma se voglio che sia un numero reale la soluzione generale quando x è reale la soluzione generale può essere scritta in questo modo come una a coseno di omega 0 b più una b seno di omega 0 t da dove vengono i coseni? da dove viene questo coseno? da dove viene il seno? viene dal teorema di Eolero e ricordo che il teorema di Eolero è uno dei teoremi più belli della matematica ed è dappertutto in fisica e in ingegneria quindi se non la conoscete imparatelo, memorizzatelo fate di tutto per capire che quello è il teorema di Eolero e vi apparirà in tutto ovunque ci sia qualcosa che oscilla ci sono i numeri complessi cioè i numeri di Eolero quindi i meccanici hanno cose che oscillano anche gli elettrici hanno i circuiti eletti che oscillano il teorema di Eolero c'è nella vostra professione cosa significa questo? che c'è un numero complesso che appartiene a una specie di cerchio unitario nel piano dei numeri complessi la parte reale vi da come se volete la specie di coordinata X la parte immaginaria vi da in qualche modo la coordinata Y di questo punto e questo punto su un cerchio di raggio 1 questo è quello che sta dicendo questo ma guardate l'argomento del coseno e del seno per noi sta cambiando linearmente del tempo quindi al passare del tempo questo punto sta muovendosi come in una specie di moto circolare del cerchio in senso anti-orario quando alfa è positivo e in senso orario quando alfa è negativo ok? allora questo è l'enunciato eccolo qua voglio che in questo lo capiate da dove vengono i coseni viene dal fatto che qua dentro c'è un coseno di omega t c'è anche seno di omega t anche qua e se fate gli appunti ripeto non è in programma si dimostra questo facciamo la breve pausa e riprendiamo qua